Ciao a tutti ragazzi e ragazze, ben tornati in questo nuovo video Oggi apriamo una LOL Surprise con Fatty Pop Wave 2 Qua sopra c'è Snuggle Babe, io ho la Wave 1 e mi è uscita Madam Queen E come sapete gli strati sono 9 invece che 7 E li sapete a memoria ormai Andiamo subito ad aprire quindi la LOL Io voglio puntare sicuro verso il maschio Funk Boy Allora, vediamo un po' Ed è un po' strano perché fa un po' di rumore Stem Club E c'è scritto Rocket Science Science per chi non lo sa vuol dire scienze Andiamo ad aprire E quindi non c'è Punk Boy Però mi sembra, mi sembra che potrebbe esserci una rara o ultra rara Non mi ricordo se è rara o ultra rara Ok Gialla E non so se cambiano colore quelle gialle Perché c'è qualcuno che dice che quelle gialle cambiano colore Ma non lo so Vabbè Qua Come Aspettate Manca uno sticker Chi se l'ha rubato il cambio colore Si sono scordati uno sticker Non lo trovo Vabbè Lo prenderò da qualcuno Lo sticker E come sapete Cambia colore che non c'è Sfuta Fa pipì Piange E fa l'acqua dalle orecchie Chissà 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 Chi è Se c'è un adesivo e non lo vedo E qualcuno di voi magari l'ha visto Avvisatemi Che bello il tatuaggio ragazzi E' bellissimo il tatuaggio Qua non c'è ancora niente E il tatuaggio è così E' bellissimo Allora lo mettiamo qua E continuiamo Qua le solite spiegazioni E facciamo La rotellina Ok Rotellina Vediamo Chi è Magari lo capisco Già da qua Chissà Che è Una bottiglia Non capisco ancora chi è Benissimo Ok Qua mi sa che quello Che c'è quello che fa pop Esatto Non lo tiro fuori Oggi voglio cambiare Non lo tiro fuori Quindi Stai in piedi Grande Ragazzi Ho capito E' quel E' VRQT Quella col visore Bellissimo Wow Quella che è sulla confezione Della wave 1 Bellissima Va bene Se n'è andata via Però non mi ricordavo Che aveva questa bottiglia Poi non ho mai avuto Una Lattina Intanto c'è il ventilatore Che fa volare tutto Ecco A voi il visore Cosa sta giocando? Un gioco di cucina Va bene Sicuramente qualcuno Delle mie LOL Lo userà Per fare qualcosa Per comprare LOL Ecco Se lo metto bene Ma non trovo proprio Il vestito? Ok Eccolo il vestito Finalmente Guardate che bello Ora vediamo Se c'è qualcos'altro Niente Andiamo a cercarla Ecco la corda Qua Fatto Spostiamo tutto Siete pronti per il pop? Come si prendeva? Così Pop Ok Non volate Per favore Ok Allora L'accessorio c'è? No Niente accessorio Benissimo Perché su alcune LOL Ecco voi Via Cutie Su alcune LOL C'è l'accessorio Dentro Su alcune no Su Lei non c'è Amore che bella La Voglio Voglio subito Vedere la cartina È volata Ok Via 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 Io voglio assolutamente Troppo Punkboy Sì Ecco La rara L'ultra rara Volevo dire Glam Glam Strona Che mi sembra che cambia colore Anche se c'è scritto che Lei cambia colore Lei no È sbagliato È l'amore Via 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 Ovviamente ho preparato Sempre l'acqua E dopo La mettiamo in freezer Ok Non ho neanche una Che sputa l'acqua Dalle orecchie Ok Lei piange Aspettate Un amore Quando piangono Ok Ora No Non la mettiamo in freezer Tanto non cambia colore Ora Mi servono i vestiti Qua Eccoli qua E non vedo l'ora Di mettergli Di mettergli Il visore Ma non ha caldo Questo giubbottino Poi adoro La magliettina Ok Se questi sono difficili Da metterli Aspettate Scusate Va bene L'ho messa Magliettina È veramente bella Col pezzo Di sotto Messo Sembrava più difficile Qua Il pezzo più bello Lo metto dopo Per ultimo Volevo dire Andiamo Scusate Scusate Che è un po' difficile Fatto Guardate che carina Quel visore Ma non gli sta un po' largo Non gli sta un po' largo Non lo so Vabbè Dopo riordino tutto Ovviamente E ciao Al prossimo video È bellissima La roll Grazie